La città metropolitana di Catania si appresta ad uscire dallo Stato di predissesto finanziario, il tutto per aver ripianato in anticipo rispetto alla scadenza del 2029. La notizia è stata data dal primo cittadino Enrico Trentino, che ha dichiarato «Gli aiuti stanziati dallo Stato è un atteggiamento prudente dell'ente nella predisposizione dei documenti contabili di programmazione inerenti alle entrate tributarie hanno consentito il ripiano anticipato del disavanzo». Inoltre, su 45 milioni di euro stanziati dal Governo per le province e le città metropolitane in predissesto, alle città di Catania sono andati 9 milioni, cioè 6 milioni l'anno scorso e i restanti quest'anno. Ulteriori bonus statali, fondi Covid-19 e aiuti per i costi di bollette energetiche pari a 15 milioni di euro hanno consentito nel 2023 a Catania di ripianare il disavanzo. Il programma che consente di rientrare nella normalità verrà proposto al Consiglio metropolitano per la definitiva approvazione. Il raggiungimento di questo importante obiettivo è stato possibile grazie all'impegno gestionale degli uffici di ragioneria capaci di elaborare la procedura amministrativa per il ripiano anticipato del disavanzo.